Listen to me. Milano e le sue case museo in un podcast. Dove vuoi, quando vuoi. Un percorso a più voci, con 21 ospiti d'eccezione, per un viaggio imperdibile tra arte contemporanea, architettura, design, moda, musica e letteratura. Un percorso a più. Ospitato nel Palazzo dell'Arengario, un esempio di architettura razionalista di epoca fascista, costituito da due costruzioni gemelle, erette per arringare, ovvero parlare alla folla. Il palazzo rappresenta appieno l'idea di dinamismo e cambiamento tipica della città e accoglie in sé le più importanti collezioni di arte italiana del Novecento. Sentiamo Vincenzo Trione, professore, storico e critico d'arte del Corriere della Sera. Ci sono tre momenti che nella mia passeggiata del Museo del Novecento considero necessari. Il momento del futurismo. Il fatto che ci sia a Milano un museo pubblico dove c'è il meglio dell'arte del futurismo, credo che sia un privilegio. Il futurismo che ha avuto come sua roccaforte, come suo cuore Milano trova appunto lì in quelle sale il meglio. L'altro passaggio è senz'altro la metafisica e le opere De Chirichiane sarà perché c'è un rapporto mio stretto con De Chirich, è l'autore sul quale ho lavorato più a lungo. Quindi avere la possibilità di vedere alcuni dei capolavori della metafisica a Milano, questo credo che sia una grande occasione. E infine l'altro grande momento milanese che è un po' il pandan con il futurismo che è la presenza di Fontana e devo dire tutta la sequenza delle opere di Fontana, dei tagli di Fontana e la spirale luminosa affacciata dalla Rengario su Piazza del Duomo, credo che sia un assoluto capolavoro imperdibile per chiunque venga da fuori. L'edificio del museo è adiacente a un altro luogo cardine, Palazzo Reale. Dagli Sforza a Napoleone e dalla Peste ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, le origini di Palazzo Reale sono antiche e si intrecciano ai fatti storici della città. Salendo il grande scalone d'onore all'ingresso del palazzo, è facile immaginarsi i lussuosi ricevimenti, dame e cavalieri in abiti d'epoca nella quotidianità della vita di corte. Dalle scale, accedendo ai diversi ambienti, è possibile ripercorrere la storia che lo accompagnò a diventare centro politico, dimora di regnanti e polo culturale del capoluogo Lombardo. Ad oggi continua ad essere l'anima espositiva della città e da anni il comune di Milano qui programma e gestisce le più grandi mostre d'arte. Ancora Trione. Palazzo Reale credo che probabilmente a livello italiano è lo spazio espositivo più visto e più frequentato. Ha una programmazione estremamente eterogenea che tuttavia nel corso degli anni si è profilata meglio, nel senso che Palazzo Reale inizia a ospitare delle mostre di livello anche europeo. E' ancora uno spazio da esplorare. Esiste, Palazzo Reale secondo me è un luogo, è un paradosso, è il luogo più frequentato ma meno conosciuto. Cioè tutti noi andiamo a vedere Palazzo Reale, è un po' un pellegrinaggio al quale tutti ci sottoponiamo, ma insieme nessuno di noi conosce davvero i segreti di quell'architettura. Com'è nata, da che istanza, i primi progetti, com'è cambiata. E ricordo anni fa ne parlavo con il direttore Domenico Piraina e lui stesso mi diceva che i milanesi non conoscono davvero la realtà e la storia di Palazzo Reale, pur frequentando. Forse la grande sfida sarà poi riuscire a conoscere anche un luogo così, che è un luogo assolutamente magico, oltre che offre opportunità espositive straordinarie. Agosto 1943 D'un colpo, una bomba colpisce l'ala est di Palazzo Reale. Sale interamente distrutte e con esse gli affreschi, le sculture, gli arredi e gli ornamenti. Il soffitto si frantuma in briciole, crollando violentemente sul marmo, distruggendolo. I maestosi specchi scoppiano in un abbagliante luccichio. Il fuoco brucia il gesso delle cariatidi, delle sculture femminili di sostegno, decapitandole. Diventano così il simbolo della distruzione provocata dalla Seconda Guerra Mondiale e da quel momento in poi la sala prende il loro nome. Qualsiasi cosa venga esposta alla sala delle cariatidi diventa un capolavoro. Cioè io è uno di quei luoghi magici, io ho visto un'opera di Maurizio Cattelan che era la nona ora, quella famosa con il Papa colpito dal meteorite. Beh, lì con un tappeto di moquette rossa gigantesco, era di una potenza e ogni qualvolta io ho visto un'installazione pensata ad hoc per quel posto, ricordo una mossa di Amos Gitae per esempio, alla sala delle cariatidi. Beh, lì ha una potenza, una carica emozionale. Avevo studiato molto al tempo il rapporto tra Dalì e l'Italia e Dalì e Milano. E uno dei luoghi che Dalì amava maggiormente era la sala delle cariatidi. E lo affascinava perché c'era l'effetto di una bellezza decadente. E poi se metti insieme Dalì, Picasso, appunto all'arrivo di Guernica, capisci come quel luogo sembra un po' questo senso di una rovina che si sta dissolvendo davanti a noi, che per i moderni ha un fascino straordinario. Dirigiamoci ora verso un altro polo culturale, didattico e artistico della città, Brera. Attraversando la galleria Vittorio Emanuele II, verso Piazza della Scala, a non ti preoccupare, la scala la approfondiremo nell'itinerario dedicato alla musica, dicevamo, da Piazza della Scala, proseguendo per Via Verdi, si arriva nei vicoli suggestivi del quartiere di Brera, dove alla miseria e alla prostituzione dell'Ottocento si è sostituita l'eleganza delle boutique, degli antiquari e dei caffè all'aperto. Al centro del quartiere, imponente, ecco il complesso di Brera, un conglomerato unico di palazzi del sapere, la Pinacoteca, l'Accademia, l'Orto Botanico, la Biblioteca Braidense. C'è anche l'Osservatorio Astronomico. Da qui Schiapparelli osserva per primo la superficie di Marte e crede di vedere delle righe lontane. Scrive che sono canali. I giornali inglesi erroneamente scrivono canali artificiali. Un errore di traduzione unito al desiderio dell'uomo di non essere solo nell'universo. Ed ecco che in tutto il mondo si comincia a parlare di marziani. Per scoprire questo mondo variegato devi superare la facciata austera del Palazzo di Brera ed entrare nel cortile, dove ti aspetta una trasformazione sorprendente, come ci racconta la storica dell'arte Angela Vettese. Quindi se il portone di via Brera 28, la facciata, è qualcosa di molto cupo, non disarmonico certamente, ma severo, poi si entra e a mano a mano che ci si addentra nel complesso, c'è più luce, non meno. C'è più ricchezza, c'è più fantasia, quindi abbiamo questa facciata quasi militare. E poi però, suggerendo un percorso che lo porta in Pinacoteca, naturalmente vede avverarsi, presentarsi degli scaloni, delle finestre ariose, nelle proporzioni vitruviane, questa idea del chiostro chiuso, ma che però poi si apre a attività diverse. Cioè proprio tener conto di questo carattere che è il carattere della città. Si diceva una volta la Milano dei Cortili, non sono soli i cortili, è proprio che dietro queste facciate cupe c'è poi una progressiva capacità di buon umore, che però arriva solo se te la meriti, cioè se sei riuscito a varcare la soglia della prima durezza. Una volta conquistato il cortile, puoi dedicarti a esplorare la Pinacoteca, un luogo immancabile per gli amanti dell'arte. 200 anni di storia, oltre 400 opere in mostra tra dipinti e sculture, dal Medioevo fino al Novecento. Un museo che si prostra al popolo, con questo scopo venne fondato dal giovane rivoluzionario Napoleone Bonaparte, la cui statua, dal corpo bronzeo e muscoloso, accoglie i visitatori. Sullo stesso cortile si affaccia all'Accademia di Brera, nata sotto dominazione austriaca, che da secoli forma giovani artisti di ogni parte del mondo. Tra gli altri l'artista coreana Min Joon Kim, che qui muove i primi passi verso la fama internazionale, impegnata oggi tra New York e la Francia. Quando ero piccolo avevo un sogno di una vita in Europea. Tutti i miei colleghi, quando ho fatto l'università per l'arte, tutti andavano a New York, o quei pochi andavano a Parigi, perché in scuola tutti imparavamo inglese, si facilitavano per andare più a New York o così. Invece da me sempre ho ammirato l'arte occidentale, perché io ho studiato tutto l'arte orientale, si diventerebbe orientale, vuol dire si usa materiali di carta, inchiostro e tutto cosa di tradizionale. Facendo questo ovviamente più interessi per l'arte occidentale, ma quando pensavo occidentale non è il senso di arte contemporanea dell'epoca. Ho pensato allora all'arte europee o all'arte occidentale, da dove posso dare un'origine di input e ho pensato di rinascimento. Allora alla fine rinascimentale è più rappresentativa per me. Ho fatto un viaggio in Europa, quando è arrivato in Italia a parte dell'arte questo posto da vivere. Allora ho deciso di dove vivere per sensazione e poi non può venire come un immigrato così. In teoria non avevo bisogno di nuovo studiare perché ho fatto anche dottorato per l'arte, però deve avere una motivazione e poteva avere soggiorno. Quindi mi sono occupato di cercare una scuola di arte per essere in Italia. Allora ho trovato l'Accademia di Abrea, aveva notorietà per certi artisti che c'erano passati. Allora tutto applicato per l'Accademia Abrea. In teoria più che vivere in Italia che per l'Accademia. Poi ho fatto molto bene e a quel punto comincio a vedere il rinascimento, quello più specifico. Mi piaceva il rinascimento rombardo dove c'è Leonardo. Allora penso che è stata una bellissima scelta per tutto il resto della mia vita. È affascinante sentire la differenza tra il metodo di insegnamento orientale e quello occidentale dell'Accademia di Brera. Per me erano completamente o perso perché in Corea, arte come università, come equivalente di Accademia, non devi farsi a vedere sua autenticità perché si impara tecnologia, tecnica, solo copiando di maestro. Quasi uno non bisogna dire questo è mio, anzi questa è la cosa più sbagliata. Allora poi scuole che erano già deciso, tre ore di questo, tre ore di questo, scultura, incisione, acquarello, olio. Tutto si impara come tecnica. Invece l'Accademia Brera è che dobbiamo scegliere il professore, già ha avuto un panico perché non conoscevo il sistema differente. Nel cortile di Brera troviamo anche il caffè Fernanda, dalle ampie vetrate luminose e quadri imponenti alle pareti. Contaminato dallo spazio museale, è il luogo perfetto per artisti, studenti e turisti che vogliono godersi gli attimi di relax e dialogo, in cui combinare il buon cibo alla cultura. Bevuto il tuo caffè rimettiti le cuffie. Nel prossimo episodio andiamo alla scoperta del suggestivo quartiere di Porta Venezia e delle sue perle artistiche. Per ascoltare i prossimi episodi, seguici sulle tue piattaforme preferite o visita il sito www.casemuseo.it dove potrai anche acquistare la card per visitare il Museo Bagatti Valsecchi, Villa Necchi Campiglio e il Museo Pol di Pezzoli a prezzo scontato. Casa Museo Boschi di Stefano è gratuita.